Potrà essere utilizzata fino al 30 settembre 2021, salvo eventuali proroghe, l'area dell'ex genio civile nel demanio pubblico in via Porto, fino ad oggi utilizzata solo come parcheggio della Guardia di Finanza e del personale dipendente. A San Cirlo è un accordo siglato tra la direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, il Comune di Salerno ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, che hanno dato risposta ad una serie di stanze di commercianti e titolari dei locali pubblici del centro storico, fortemente penalizzati dalla carenza di spazi per la sosta dei veicoli dei propri clienti, soprattutto durante il weekend. A promuovere la proposta era stato in modo particolare l'Associazione Commercianti per Salerno. Individuato lo strumento tecnico-giuridico che consente l'utilizzo condiviso tra soggetti pubblici e privati del bene demaniale, l'accordo è stato siglato ed è di una importante valenza simbolica per la Guardia di Finanza che in un comunicato stampa ha sottolineato come nel particolare periodo di difficoltà attraversato da imprenditori ed esercenti commerciali questa forma di collaborazione costituisce pure una dimostrazione di effettiva vicinanza, un aiuto tangibile per affrontare e superare insieme i disagi economici e sociali provocati dalla pandemia. La concessione dell'area ex genio civile in uso governativo alla Guardia di Finanza dal 2003 coprirà il periodo necessario per l'ultima azione dei lavori che allo Stato interessano lo spazio attivo a complesso crescent, prevista per il mese di giugno 2021. Con l'apertura del nuovo Parc Libertà il Comune conta infatti di risolvere una volta per tutta questa criticità di posti auto nella zona. È stato già predisposto il piano degli interventi di adeguamento necessari per la fruibilità dell'area ento trempi brevi. La gestione sarà affidata come per le altre aree di parcheggio alla società Salerno Mobilità.